4-3-3, Dupont in porta, De Sciglio dunque, Rugani, Pierini, Alessandro è difesa, Pierini, Raffianic, Matuidi, questa linea non si tocca, a centrocampo, Bernardeschi con Mangiogic, insieme a Iguain, lì davanti, il centrocampo della Juventus ormai è un punto fermo. Esatto, perché la capacità di servizio di Matuidi è stata fondamentale nella fase di non possesso per i miei sconeri, nelle ultime nove partite solo una lette subita, ma ha l'impressione, mi ha detto, di solo 15 fini nello sette di porta nelle ultime nove partite. Risposta di Iacchini, 4-3-3, Consiglio in porta, Lirola, Lemos, Asciati, Perusa in difesa, Mischiroli, Magnanelli, Duncan, centrocampo, Berardi e Politano alle spalle, di Babacala e Lex Viola, che cerca spazio, gol e tante soddisfazioni. Con la maglia, fiero verde del Sassuolo, l'inno della Juventus. La sciampata dello stadium, con i tifosi che vogliono provare a fare la differenza, ancora di una volta, ma c'è anche qualche tifoso verso il suolo. E si vuole vedere se questa partita l'andata, la partita di dimana, ripetta per lui, gol straordinario.